Proviamo un'altra via di Varese. Mirko, la vedo dura per te. È difficile per me o ho dei semplici tappi? E meno male che non c'è casino. Ci siamo impiantati? No, qua devi fare l'impennativo. Ah, ok. Però da solo mi è un po' impossibile fare l'impennato. Mettisolo adesso che è meglio. Aspetta, ok, adesso riusciamo perché i tavolini sono finiti da entrambe le piave. Sì, ma perché oggi non c'è gente. Quando c'è gente... No, non mi dava l'esipa, quello qua è bene. Un sabato sera la vedo veramente grigia per te. Di brutto. Qua invece è bello comodo, però... Qua si sale bene, quindi... Qua, no, qua si può. Qua si può, però guarda come parte. Hanno fatto una pezza, si è andata a me su una pezza. Ah, sì, hanno fatto la lampa per disabili. Eh, però chi l'ha fatta... È un po' il radino. Eh, fantastico, perché quello lì senza l'impennatina dal solo non lo fai. Poi ti rischi anche di ripartare lì dietro. Non è bello. No, non è male. Va bene. Continuiamo? Mentre capire, abbiamo solo quella lampetta qua, però qua dentro, in teoria, si potrebbe anche da... Grazie. 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 Grazie.